Buonanotte, aspetta, aspetta, muovi soltanto la bocca più via, bocca, questo è il riassunto di un anno incenso di attività, di cose belle e di cose brutte, un anno di incazzazione di passature, di risate e alla fine, magna magna, beva beva e la torta e via, e vai. Oh, c'è tutta la torta? È un segno. Un anno allora che lo riassumiamo, cinque foto, perché ci sono le squadre nuove, sono i rookie, devo ancora capire cosa vuole dire rookie, però ci sono gli esordienti che non sono tanto più nuovi, però quest'anno sono riusciti a dare il meglio e il prossimo anno basta, è finito, si devono impegnare di più. Gli assoluti, gli assoluti che si fanno un mazzo così, ma è dura, la scala delle assoluti e la scalata è dura, non c'è niente da fare. Bisogna ringraziare il manifesto, perché ne prende un sacco di nomi e poi non va mai bene niente, dobbiamo assolutamente ringraziare il numero uno, quello che ci permette di fare tutto questo, che sono io, vabbè, a parte me c'è la persona che tira su questi atleti, la chioccia, questi atleti dell'aria, e vorrei chiamare qui Venini davanti a me. Quest'anno abbiamo giunto anche, sono tre però, c'è anche Calport adesso, devo ringraziare il nostro super stanga, che mette un po' di pepe nel culo a certa gente che va a far legare con l'Arezzo, però comunque lasciamo stare. E poi ci si è messo anche Venini, che quest'anno voglio rubare un po' di pane, però sarà quello che ci tirerà sulla nuova squadra dei rucchi. E niente, per tutto il riassunto di tutto questo, per queste cinque squadre, mi dispiace che non sono sei, però vabbè, il prossimo anno saranno sei, infatti che niente. Pesca di Tic Cremona! Tutto il menu! Sei! Tutto il menu! Sei! Tutto il menu! Sei! 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 Ma adesso si mangia sta torta? Cazzo! E la tagliarla o no? Le avete fatto le foto! Bello!